Quello, colore sì. Per i daltonici? Semplicemente? Non credo abbia, non credo abbia. Dici per i daltonici, ok. Quindi tu dici che il rosa è sempre la palla? Sì. Ok. Qua c'è il rosa. Il rosa è il rosso. Prendetene una a testa prima e poi liberiamo, dai. Aspettate un secondo. No, non c'è neanche. Io c'ho il blu, triangolo. Quando hanno preso tutto, tutti... Lo facciamo. Io qua, io qua. Io sto qua, cazzo. Avvisateci quando ce l'avete, eh. Vai, vai. Siamo tutti full. No, no, aspetta. Ah. Ok, ce l'ho ora. No. Ce l'ho ora, ce l'ho ora. Va bene, va bene. La retettata. Ok, qui è blu? Qui è bianco. Arrivo. Proviamo a intrecciarci, visto che tanto d'arte che è morto. Vediamo cosa succede. Non incrociate i flussi. Invece? Incadenamento e fa male, sì. C'è da un cazzo? Io non ho visto nulla. Molto male. E quello a me è il cammino, il servitore. Ok, io ho un bel per due, se aprite siamo pronti. Ok, avremo. Io mi faccio un altro giro giù. Magari uccidetemi un servitore al volo. Oh, ma che cazzo. È morto, eh. Dove sono? Andrò qui. Ok. Vabbè, basta che giro intorno, no? Opla. Giocando col fuoco, mi è uscito un buff, raga. Giocando col fuoco. Eh, giocando col fuoco non lo hai aggacciato. Ah, quello è vero, vero, vero. Fa un ricoglione. No, 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 mi devo stuccare, non mi devo stuccare. Raga, mi uccidete un servitore. Esci, esci, esci. Sì, sì, sì. Mi uccidete un servitore? È spaventato adesso il servitore, vai, da te, invece l'hai, bo. Che hai rotto? Ma quindi sto coso sì, c'è il caramacchie si rompono col tempo, no? Col danno. Evidentemente sì. Cavolo, che male. Mi uccidete un altro. Se trovo la piastra, magari. Raga, secondo me voi sopra dovete essere un po' più uniti, cioè proprio andate insieme, tipo, vi trovate un posto e vi piazzate là e basta. Io prendo il rosa. Il servitore, una volta che spavano da una parte, rispavano sempre là. Ecco, è qua il servitore, eh. Vogliamo aspettare a Dartek? Vedemi quando aprire, eh. No, aspetta, 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 aspetta. Io non ho preso niente ancora. Una è distrutta. Dartek è a te, boi, mi raccomando. Vedemi quando. Aspetta, aspetta, aspetta. Vai. Questi retti dobbiamo uccidere, vai. Arrivo perché sono morto. Morto? C'è il bagai, ma ero uscito dal carro. Ma vaffanculo, va. Qua c'è il bianco, lo prendo io per il mio per due. A me serve il rosa. Vai. Vieni a girare. Uno mi resta, please. Non ho resti, no? E qui c'è un servitore. Ma non siamo già passati davanti al rosso. Boh. Perché ce ne sta un altro, perché io non l'abbiamo rotta. Di cosa, ce ne dovrebbe resta un altro. Ecco la rosa, ecco la rosa, guarda, guarda. La rosa. Mi ha rotto uno dei bracci che raggia il boss. Quindi è probabile che... I bracci. Mi ha rotto. I bracci. La stai facendo uccidere il servitore, raga? No, l'abbiamo ucciso due volte. Ecco adesso, si è aperto. Ok, eccolo qua, eccolo qua. Cosa c'è contro i bracci? Ti prendo da aspetta. Mi dice, le braccia in italiano. No, le braccia sono quelle che c'è tu. I bracci sono qualcosa di meccanico. Sì, se lo dici te. Mamma mia, quante cazzo ne savo. Se lo dici te. Oh, prodigioso. Eccelso, eccelso. Ebbiamo riscendere? No, no, io sto sparando. Io sto a sparare col bazooka. Io scendo giù. Spara pure quelle uno, eh. Boga. Sì, sì, ma comunque ragazzi, basta fare avanti e indietro. È una cazzata questa cosa. Io mi stavo diventando sciamo ad andare tutti a fare in giro. No, a me ma... No, è il cazzo, eh. Se ti prende un coso solo, ti sfonda, eh. A me mi ha sfondato. Prende un missile. Dove avete il servitore? Ecco, l'ho visto, l'ho visto. Fondo là. Non capisco se è a tempo... No, a me mi ha colpito un missile, ma mi ha veramente fatto malissimo. Possiamo riscendere, regga, dai. Attenzione agli stiletti che è pieno. Io c'ho il blu, eh. C'ho il blu. C'è qua il quadrato. Faccio il bianco. Il blu è mio, eh. Mi raccomando. C'è qua. Quando ce l'avete di... Eh, aspetta, mi sa che manca graffio. Rosso. Sì, manco io, manco io. E allora, davanti il rosa, ho trovato. Vai, prego. Potete andare adesso. No, no, aspetta, 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 aspetta. Due secondi. Ok, potete andare. E che parte stiamo ruotando, raga? Io sto fermo. Oh, io sto davanti l'uscita. E io. Qui c'è il rosa da me. Forse abbiamo uccidito le due. Arrivo. Quindi giro a destra. A me ne sono succedi due, perché hanno fatto... Eh, io per due ce l'ho? Eh, io no. Aspettate un attimo, è qui pieno di gente. No, questo è blu. Non lo vedo. Eccolo, là, là, là. Bianco, ho trovato. Non lo vado a rompere, eh? Aspetta. Adesso, vai. Eh, darti, davanti a noi c'è il blu, eh. Ma lui è già... Lui è già per due. Ah, ok, ok, ok. Ok, let's go, let's go. Abbiamo il tunno sforzato. D'arte che torna sforzato. Eh, sì, perché io sono morto una volta. Ah, beh, ma... Vabbè, non fa niente, tanto... Basta stas... Ah, anche, raga, più di tre non se ne possono chiamare insieme di cosi. Ho appena notato che diventa... Io ho preso il rosa. Ma io sto corruccare armato. Ultima d'acca. Ultima d'acca. Dov'è il servidor, raga? Lo vedete? È da me, da me, da me. Dai, raga. Se me lo uccidete vengo fuori con il carano. È morto, è morto, è morto, è morto. È morto, è morto, è morto. È andato, ok. Non non resti, eh. Nemmeno io, eh. Arrivare, arrivare. Il blu. È morto. Dai. Eh, no, sono dovuto uscire, raga. Sono dovuto uscire. Eh, in town. Aspetta che dovrei trovare... Quello rosa e ci sto. Un servitore, raga, lo avete visto? Allora io non scendo neanche giù. Non scendo neanche io, neanche io. No, no, rimanete voi, ci penso io, ci penso io. Se non muoio. Ehi, Kim down, Darterigno. Dai, Darterigno, portalo a casa. Ecco qua. E' lì, è lì, è lì. E' lì, l'indicazione della vita. Vai, è morto. Vai, Dartek. Vai, Dartek. Vai, sbruzzers. Sbruzzers, uccidilo, sbruzzers. Non trovo una cosa, raga. Aiuto, sto a morire, aiuto. Mi stanno sparando tutti. A destra, a destra, a destra. Eh, ho capito, ma visto che c'ho dietro. Non c'è nessuno. Siamo qui a pulire con i mitrali. Sera nero scappa. Sera nero scappa. Papparapappam. Arrivo. Melting. 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 Sparate tutti. Yeah, abbiamo ucciso una macchina. No, abbiamo liberato. Non lo so, ma è giusto e quindi va bene. Bravo, Dartek. Man of the match. World record. Forse. Senti sul carro armato? O esplodere, grazie. Via! Cassa, 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 qua. Dove, dove, dove? Permesso. Spito. Cassa, 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 cassa. Lengua, io! Yeah! Non era il boss, ce n'è un altro. Senza luce, gli uomini senza luce. Regalata, la vita fa schifo. 6,50, sbra! Ma sto reddito, me lo abbraccio, te lo abbraccio. Buongiorno. Grazie.